siamo bloccati qua non si può passare anche l'autobus della Sita non c'è stato nessun avviso perché siamo passati pochi minuti fa si doveva bloccare subito si doveva bloccare subito guardate che succede qua è un disastro c'è anche l'autobus della Sita bloccato è una vergogna ci dovevano avvisare guardate che disastro guardate è proprio un disastro anche i turisti bloccati dalla Sita è un disastro veramente ma io non lo so come cazzo si fa ma come cazzo si fa non chiudo il paese quando ci sta questo tempo cazzo ma cazzo veramente ma come cazzo si fa c'è rischiare la vita delle persone ma vi rendete conto o no?